Anticipo di polpromozione per la studentesca Licata che questa sera con inizio alle ore 19 va a sfidare il fanalino di coda Sport Club Gravina. I gialloblo di Coa e Cettore Castorina arrivano a questa sfida dopo un paio di risultati non proprio esaltanti. Negli ultimi due match disputati, Capitan Guglielmo Lamarca e compagni hanno infatti collezionato altre tante battute d'arresto contro Basket Club Ragusa e Aretusa Siracusa. Risultati che stridono con il ruolino tenuto nelle prime tre gare di questa fase e che avevano visto invece tre successi consecutivi per i gialloblu contro Gravina, Aci Bonaccorsi e Cuscatania. Ad onore del vero c'è da dire che le due sconfitte sono arrivate contro le squadre più forti della griglia. Basket Club Ragusa e soprattutto la Aretusa Siracusa dell'ex coa eci gialloblu Paolo Marletta sono squadre attrezzate che hanno investito un budget di gran lunga superiore rispetto alla studentesca. I ragazzi di Coach Castorina per continuare a coltivare chance di qualificazione dovranno ottenere il massimo dalle prossime tre gare, tutte ampiamente alla portata e giocarsi poi il tutto per tutto nel match casalingo contro Ragusa in programma il prossimo 27 aprile.